Roberta Grejokok La sua pittura immaginaria indaga attraverso il filtro della sua mente per raggiungere con immediatezza l'obiettivo primario, stupire l'osservatore. Un'opera la sua che si stempera in un intreccio di forme, disegni e colori dalla profonda interpretazione. L'arte come spettacolo racconta incanti della ragione. Premio Giulio Cesare Imperatore 2018 all'artista Grejokok Roberta. Ritira il premio l'artista Grejokok Roberta. Hello everyone, good evening. It's a pleasure to be here this evening. I traveled from Canada to be here and I'd like to congratulate all the recipients of this award. I've been an honorary member of the association for four years now and every year I've told the association that I would be here. But this is actually the first time that I'm here. So not only is this a pleasure for me, a thrill and an honor, but I am very, very pleased. So I'd like to thank the Academy of Art Del Mono for this award and again, congratulate relations to everyone. Thank you. La nostra artiste è molto felice di essere qui, viene dal Canada, per lei è la prima volta in Italia e grazie all'associazione per averla invitata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.